Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLi, dove per lavori di miglioramento della sicurezza al momento ci sono rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. Per altri lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. In A1 verso Bologna, un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 276 tra Calenzano-Sesto Fiorentino ed il Bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. A Firenze, per il ripristino di un muro privato, fino a domani via di San Leonardo sarà chiusa tra via Viviani e il numero civico 61. Muoversi in Toscana Info è un servizio e una collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!